Favara, l'azzeramento dei dirigenti comunali ci sarà ed avverrà a breve al termine delle trattative con i sindacati. I burocrati saranno poi ricollocati dalle forze politiche di maggioranza. E questo, quanto ci ha detto il sindaco Russello, a margine dell'interpartitica di ieri sera, convocata per scongiurare il rischio ibernazione di una buona parte degli otto assessori comunali favaresi attualmente in carica. Ma nonostante queste ed altre affermazioni, qualcosa non convince. Il rischio congelamento potrebbe essere ancora alto. Da sottolineare che all'incontro al palazzo comunale di Piazza Cavour non c'erano tutti. Qualche rappresentante partitico ha preferito non farsi vedere affatto. Qualcun altro è rimasto in piazza ad attendere l'esito dell'incontro e da commentare la nostra notizia sul congelamento degli assessori, diffusa nella giornata. All'uscita dalla riunione non abbiamo visto proprio facce sorridenti. Qualcuna era piuttosto mesta. Solo il sindaco Russello ha voluto smentire che ci sia in atto un progetto di congelamento di 5 o 6 dei suoi assessori. Per martedì prossimo, primo giugno, è stata convocata la giunta comunale ed il primo cittadino ci tiene a sottolineare che tutti e Dotto e i colleghi di giunta saranno normalmente presenti alla riunione. Smentisco assolutamente queste situazioni, smentisco assolutamente che ci siano crisi politiche o amministrative. Del resto non mi pare che né a Sicilia TV né agli altri organi di stamba, né tantomeno al mio ufficio o al comune, siano pervenuti, comunicati e note stamba o note amministrative di qualsiasi partito o di qualsiasi assessore erano soltanto voci di corridoio, tali debbono rimanere. Ma quella di Russello rimane una voce isolata. Le forze politiche non smentiscono ufficialmente la notizia del possibile congelamento. C'è stato solo qualche rispettoso tentativo di depistaggio. Cosa ci sia in realtà che non va per il verso giusto tra il sindaco e forze consigliari non è evidente. Ma di certo non può essere la sola questione bilancio che a giorni sarà approvato o solo l'azzeramento dei dirigenti comunali. Sull'azzeramento dei dirigenti abbiamo detto c'è in corso una concertazione con i sindacati perché abbiamo rimodulato lo schema organizzativo dell'ente prevedendo l'ulteriore diminuzione dei dirigenti. Non appena verrà conclusa questa attività a concertazione con i sindacati procederemo all'azzeramento della dirigenza e al contestuale immediato rinnovo dei dirigenti. Cioè procederemo a rinominare otto dirigenti tra ovviamente i dirigenti che noi abbiamo. Quindi è normale attività organizzativa. Se come dice Russello a zerare nominare i dirigenti è normale attività amministrativa perché i partiti non hanno subito smentito che ci siano dei soffi di aria particolarmente fredda al palazzo comunale? C'è probabilmente dell'altro promesse non mantenute o bracci di ferro tra richieste e concessioni che il sindaco definisce confronti dibattiti interni. Stiamo portando avanti tutta una serie di iniziative sul campo programmatico principalmente prevalentemente nel campo dell'energia. Ci sono tante iniziative che stiamo portando avanti. C'è semplicemente come credo che sia nel sale della democrazia un confronto dibattito interno su alcuni punti programmatici che ci siamo dati che stiamo tutti quanti portando insieme. Su questi punti programmatici ovviamente è aperto continuamente il confronto e il dialogo tra il sindaco, gli assessori e i consiglieri e i partiti che compongono l'attuale maggioranza. E ovviamente la questione non si è esaurita con la riunione di ieri in un contesto che vede una maggioranza non più omogenea e per certi versi addirittura contrapposta è difficile governare. Sentendo assolutamente smentire queste notizie infondate, del resto lo stesso articolo di Sicilia TV parlava di voci di corridoio, di voci di piazza. Ecco io credo che una corretta informazione ovviamente fatemelo passare non si fa con le voci di piazza. Si poteva benissimo chiamare il sindaco e avrei subito risposto. Nel ringraziare il sindaco per il consiglio che ha voluto rivolgerci senza voler polemizzare vogliamo cogliere l'occasione per ricordare che noi da sempre abbiamo fatto e facciamo corretta e libera informazione. Da vent'anni mai faziosa, così come sempre riconosciuto da tutte le forze politiche di sinistra, centro e di destra e soprattutto dai cittadini è che nel corso dei suoi unici tre anni di sindacatura le voci non ufficiali o non ufficializzabili sono state da lui particolarmente attese soprattutto durante le sue importanti decisioni politiche e tecniche. Quello che abbiamo fatto è stato solo raccontare un fatto alla cittadinanza. Mica si può solo dire che tutto funziona. Più corretta e completa informazione di questa? In corretto sarebbe stato non riportare alla città anche questa realtà. D'altronde si è sempre voluto far vedere e far credere alla città che il palazzo comunale altro non è che un palazzo di vetro. Perché oggi non piace che venga riportato pubblicamente cosa si vocifera al palazzo comunale?